Musica Ben trovati telespettatori di TV6 e l'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di venerdì 10 febbraio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo fenomeni di instabilità lungo le regioni adriatiche e su gran parte delle regioni del nord Italia dove sono attese nevicate fino a quote molto basse, in particolar modo in Piemonte. La ventilazione media proverrà dai quadranti orientali al centro-sud mentre si disporrà da maestrale in particolar modo sul nord-ovest. Le temperature inoltre risulteranno in generale diminuzione su gran parte del centro-nord. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno instabili su gran parte del territorio regionale. Tuttavia nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche tenderanno velocemente a migliorare lungo la fascia costiera mentre nelle zone interne rimarranno deboli piogge. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.